Oggi è sabato 16 maggio, tante cose stanno migliorando, il lockdown sta diminuendo, dal lunedì ci saranno molte possibilità di muoversi in movimento, in questi giorni abbiamo ricevuto tanti messaggi, tante chiamate, le riceviamo in continuazione, abbiamo anche dato un po' di risposte e vi ricordiamo che si può tranquillamente accedere alle spiagge, agli amici dell'Internet da Più di Sacco, dal Padovano e da Cavarzere possono tranquillamente venire a Chioggia e quindi possono fare la loro bella passeggiata in spiaggia, possono andare sulla diga che è aperta, tra l'altro oggi c'è un spettacolo meraviglioso, sono arrivati tantissimi ospiti con i kite, con i surf, la giornata è abbastanza ventosa e quindi vi invitiamo a venire a Chioggia tranquillamente, c'è tanta gente, tanti operatori si stanno preparando, quindi venite tranquillamente, oggi è una giornata onestamente un po' congestionata perché c'è un cantiere in corso in centro a Chioggia e stanno facendo, come avevamo dato notizia ieri, stanno facendo delle prove di staticità di alcuni ponti, quindi il traffico è un po' sotto pressione, ma comunque si può tranquillamente arrivare e domani, tempo permettendo, vi consigliamo di venire, che gli operatori di Chioggia, ma anche i chiogiotti stessi, come potete vedere, vi aspettiamo a braccia aperte. Allora abbiamo in linea Giuliano Boscolo Ceggion dell'Asia, la Federal Berghi di Chioggia Sottomarina, Giuliano come state affrontando le nuove disposizioni? Buongiorno a tutti, abbiamo il decreto definitivo proposto dalle regioni e approvato dallo Stato, è molto più semplificativo, diciamo che siamo contenti, stiamo preparando una stagione estiva che secondo me sarà, non dico coi numeri degli anni passati perché è impossibile, però ci mettiamo in movimento, ci stiamo riattivando, è una cosa molto importante, sono veramente entusiasta anche delle soluzioni anche per le altre categorie economiche della città, perché il turismo è una sinergia tra tutte le categorie produttive, tra tutti i soggetti che lavorano ai servizi al turista e se tutti hanno la possibilità di lavorare serenamente, vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo, vuol dire che una squadra vince quando tutti sono in sintonia e lavorare bene, molto bene, bisogna lavorare bene quest'anno. Buongiorno a tutti ragazzi, meno ragazzi, giovani, bambini, adulti, nonni, venite a Sottomarina perché vi aspettiamo, noi siamo pronti con tutte le nostre precauzioni, anti-covid, mascherina, guanti, sanificazioni, distanziamento, le spiagge sono aperte per voi, vi aspettiamo numerosi. Venite a Sottomarina, vi stiamo aspettando, venite a Sottomarina, vi aspettiamo a Chioggia. Dai, dai, più forte, più forte, dai, bravissimi, grazie.